La domenica prossima saranno sette le finali che dividono il Gela dalla conquista della Serie D. Sette finali da giocare con il coltello tra i denti perché niente e nessuno lascia punti per strada. E i biancazzurri del tecnico Toto Brucculeri lo hanno capito. Non ci sono squadre ma terasso. A maggior ragione è quando si affronta il Gela. Sì, perché il Gela ha un blasone, una storia, rappresenta una città affamata di successi e che nel calcio ripone le proprie ambizioni. Un pallone che entra in rete fa felici tutti, così come accaduto domenica scorsa nella gara con il Mussomeli, un risultato che non voleva schiodarsi dallo 0 a 0. Poi, ad una manciata di secondi della fine, ci ha pensato Mincica a far esplodere lo stadio con un tiro che ha fatto secco il bravissimo portiere ospite. Quel pallone che ha gonfiato la rete lo ha spinto il tifoso biancazzurro. Ed è stata una gioia incontenibile, un successo fortemente voluto dal team preseduto da Angelo Tuccio. Una vittoria che ha consentito alla truppa giolese di consolidare il primato in classifica nel girone A del campionato di eccellenza. Il Gela non è solo al comando, c'è anche il sorprendente Dattilo Noir, capace di ribaltare lo svantaggio nel big match con la San Cataldese e di vincere per 3 a 1. Gela e Dattilo in testa con 46 punti, poi c'è la San Cataldese a quota 43. Ma attenzione al Castelbuono, distante e soltanto 5 lunghezze dalla vetta e con uno di stacco di soli 2 punti, proprio da Nisseni. E l'8 a 4? O se la giocheranno Gela e Dattilo? O la San Cataldese? O l'outsider Castelbuono? Sale il campo a dirlo. Intanto i biancazzurri non devono perdere più punti per strada. La concorrenza è agguerrita. Domenica prossima intanto banco di prova per Nassi e compagni. Si giocherà a Mazzara e l'impegno richiede massima attenzione. Nelle ultime trasferte di seguito il Gela ha ottenuto altrettanti pareggi. Adesso è giunto il momento di conquistare l'intera posta in palio. Perché, come dicevamo, le altre concorrenti al salto di categoria non mollano di un centimetro. Il prossimo turno di calendario prevede la trasferta del Daltino Luar in casa del Camerat. La San Cataldese giocherà davanti al pubblico di casa contro il Curso Palermo, mentre il Castelbuono renderà visita al Paceco. Dunque un'altra giornata di campionato da vivere fino in fondo.